Non si fa a non ingrassare e mangiare sempre tutte queste cose buone, buonissime, buonissime! Chi lo dici? A chi lo dici? A casa della Luigina si prendono dai 7 agli 800 grammi al giorno di peso effettivo. Ma queste, io vorrei assaggiarle subito queste. Così, esattamente così che si prendono. Sono dai 3 ai 4 kg a settimana. Uno deve correre, è più o meno una maratona ogni 10 giorni. Mi spiace ma devo aprirti, mi spiace ma devi aprirti. Ah, il cioccolatino, guarda, guarda che bello, un cioccolatino, non c'è più, è sparito. Allora fa le magie, perché chi non lo sapesse è anche maga, fa sparire i cioccolatini così. Una volta ne ha fatti sparire 3 in una volta sola e tutti, oddio dove sono finiti questi cioccolatini? Però no, non svelava i suoi trucchi. E' così. Cosa bisogna fare con questa Luigina? Ma se non mangi te, ma chi deve mangiare? Mangia tutto quello che vuoi. La nonna fa tutto quello che vuole. Arrivarci. Se arrivo io a 85 anni, mangio qualsiasi cosa mi passa per la testa. Queste dobbiamo mangiarne una a testa tutti i giorni. E' una medicina che l'ha detto il dottore. Dottor Luigina dice... Ma ha detto il dottore, mi stai mangiando una al giorno. Solo una, eh. Ce ne trenta. E tu ne mangi solo una? Ma ha detto il dottore, mi stai mangiando una a testa tutti i giorni.